Per chi si volesse ora in ascolto, ripetiamo che stiamo trasmettendo dall'Olimpico in Roma il derby Roma-Lazio. Dopo il primo quarto d'ora di gioco il punteggio è sempre di 0 a 0. La Roma attacca, chi già supera i eufemi, si porta sulla linea di fondo, traversone, raccoglie da costa al volo, lo vati con un gran basso di via in angolo. Bellissima razione e bellissima la parata sul tiro del canoniere brasiliano. Passa a Vivolo, a Tozzi, a Mucinelli, Magli ferma l'azione e rinvia, raccoglie lo iodice che fugge velocissimo lungo la linea laterale, stringe al centro, passaggio, ma la testa di Pinardi è pronta all'appuntamento e respinge l'insidia, la Roma è nettamente superiore, stringe la Lazio nella sua area. Mucinelli a Selmoson, tiro, Panetti ha parato in modo stupendo. La costa scatta, supera due avversari, è atterrato a tre metri dalla porta, l'arbitro corre verso il punto fatale, il dito proteso, calcio di rigore contro la Lazio. Giuliano mette il pallone sul dischetto. So, l'arbitro, 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 che si tratta, è un'unica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io ti mando la flotta russa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alberto, che succede? Alberto! Alberto!